Traffico internazionale di droga voleva spedire la marijuana in Svezia, a 35 anni fermato dai finanzieri. La Guardia di Finanza di Siracusa ha portato a termine un'importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti intercettando una spedizione illegale di circa un chilogrammo di marijuana destinata a un cliente in Svezia attraverso canali di smestamento apparentemente legittime. L'indagine ha preso via alcuni giorni fa quando un uomo di 35 anni si è presentato presso un'agenzia di spedizione di Siracusa dichiarando di voler inviare un collo contenente souvenir in ceramica verso la Svezia. Il forte odore proveniente dal pacco però ha insospettito il personale dell'agenzia che è andato via il mittente e ha prontamente allertato la Guardia di Finanza. I militari intervenuti sul posto hanno effettuato le verifiche necessarie e scoperto la sostanza stupefacente nascosta all'interno della confezione. Il carico illegale è stato immediatamente sequestrato e sono state avviate le indagini per risalire al cedente. Qualche giorno dopo l'individuo è tornato nell'agenzia di spedizione per richiedere informazioni sul mancato invio della scatola e a quel punto è stato fermato dai finanzieri condotti in caserma dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti al termine dei quali è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Siracusa per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Va ricordato che questa non è la prima operazione del genere messa a segno dalla Guardia di Finanza di Siracusa. Alcuni mesi fa in servizio analogo aveva portato all'arresto di un giovane siracusano che si era fatto spedire ben 4 kg di hashish. Anche in quel caso l'intervento tempestivo dei finanzieri ha impedito l'immissione sulla piazza Lidusia di una notevole quantità di droga.